Il cambio di colore per la Campania è arrivato dal Ministero della Salute ma è durato poche ore. Da domani, domenica, la Regione non sarà zona gialla fino a mercoledì 23 dicembre perché con un'ordinanza regionale il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha stabilito che la Campania resta zona arancione. Lo ha deciso l'unità di crisi della Regione, riunita questa mattina, confermando le limitazioni già in vigore con l'attuale fascia di rischio che sarebbe decaduta a mezzanotte di oggi a causa del non rinnovo dell'ordinanza del Ministero della Salute. E così, in tarda mattinata, il Presidente De Luca ha messo la firma alla nuova ordinanza, la numero 98, dove sono previste altre misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid. Per le attività di ristorazione sono previsti, ha precisato il Governatore, i ristori stabiliti a livello nazionale, quindi non ci saranno altri soldi dalla Regione Campania. La Campania non cambia colore, dunque, ma c'è di più, perché scatta il divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione dalle ore 11 del mattino di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche con l'esclusione dell'acqua. Per tutto l'arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite anche non alcoliche nelle aree pubbliche aperte al pubblico, i vi comprese, le ville e i parchi comunali. Tutti gli esercizi commerciali avranno l'obbligo di misurazione della temperatura corporea alle persone all'ingresso dei locali e di inibire l'ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37 gradi e mezzo. Raccomandazione ai comuni e alle altre autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cosiddetta movida. Nessuna boccata d'ossigeno dunque per la campania, anzi limitazioni fino al 23 dicembre quando poi seguiranno 10 giorni di zona rossa e 4 in zona arancione con il coprifuoco che resta sempre attivo fino alle ore 22 con il nuovo decreto per le festività natalizie con il quale il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive. Saranno giorni da zona rossa il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, l'1, il 2, il 3, il 5 e il 6 gennaio. Chiuderanno gli esercizi commerciali come ad esempio l'abbigliamento e le calzature, nonché i centri estetici ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e i bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pub che possono effettuare solo la consegna a domicilio e fino alle 22 sempre l'asporto. Sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita sia tra le regioni sia tra i comuni e all'interno degli stessi salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute. Le regole per la zona rossa impongono di non uscire di casa se non per ragioni di necessità e d'urgenza. In questi giorni sarà però consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti, seppur rispettando regole precise. Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro i figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi. È invece consentito svolgere sia attività motoria individualmente e in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione, sia attività sportiva ma anche questa solo in forma individuale ed esclusivamente all'aperto. Per tutto il periodo delle festività natalizie il governo ha però introdotto una deroga ai divieti che sarà valida sia nelle giornate in cui l'Italia sarà rossa sia in quelle in cui sarà arancione ed è quella per consentire comunque ai parenti più stretti di vedersi per il cenone. Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra il 5 e le 22, verso una sola abitazione ubicata nella stessa regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi oltre ai minori di 14 anni, sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. In zona rossa invece non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi. In qualsiasi luogo all'aperto o al chiuso recitano le fac del governo, chi lo fa rischia una multa da 400 a 1000 euro.